Cari amici, faccio questo video in difesa della libertà di parola e in difesa della salute pubblica. Oggi purtroppo leggerò in parte degli appunti, questo non è nel mio stile per chi mi conosce, ma però in compenso mi sono messo una bella camicia, insomma anche questo non è il mio stile, pensate un po' per l'occasione, mi sono messo una bella camicia. Allora iniziamo, dicevo faccio questo video per la difesa della libertà di parola e soprattutto anche in difesa della salute pubblica e in relazione alla mia appartenenza al patto Julian Assange che raggruppa importanti blogger e importanti youtuber per la difesa della libertà di parola premetto quanto segue. Dichiaro di aver agito nella piena osservanza della Costituzione e delle leggi vigenti in Italia e di aver utilizzato fonti attendibili e verificabili. Sono consapevole che eventuali informazioni mendaci espresse in questa sede o nelle mie pubblicazioni risulterebbero lesive dell'immagine pubblica del patto, dei suoi membri e della mia professionalità e potrebbero giustificare l'espulsione. Mallevo gli aderenti al patto da ogni responsabilità. E in anticipo ringrazio gli amici del patto di Julian Assange che vorranno, che decideranno liberamente di prendere le mie difese, insomma di parlare di questo grave episodio di cui Informa TV è vittima. Allora oggi youtube ha rimosso un mio video e il video si chiama l'ennesimo, questo è il sesto video, pensate. Il video è idrossiclorochina somministrate dosi letali per fermare la sperimentazione. Ora però vorrei fare prima una breve premessa perché questo è solo l'ultimo di gravissimi episodi a cui il mio canale è stato sottoposto. Allora il mio canale youtube è stato oscurato il 17 marzo. Il 17 marzo io ho pubblicato il primo video sullo zono che dopo sei ore dalla pubblicazione è stato letteralmente bloccato come si vede dal grafico delle visualizzazioni. Dopo sei ore l'andamento da verticale diventa incredibilmente perfettamente orizzontale e le visualizzazioni vengono azzerate e fino a quel punto quel video stava viaggiando ad un ritmo di più di 10.000 visualizzazioni all'ora. Bene, il 17 di marzo in Formal TV, pensate un po', contava 1.200.000 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni. Ebbene oggi lo stesso canale invece conta meno di 100.000 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni. Quindi parliamo di una riduzione della visibilità e delle visualizzazioni che supera abbondantemente il 90%. Insomma youtube ha cancellato in Formal TV. Ecco, come se non bastasse, non gli bastasse questo, dicevo youtube ha rimosso quattro video. E sono tutti questi video, sono video in cui, nei quali io parlavo del ozono e dell'ossigeno ozonoterapia. Praticamente due video in particolare, la rimozione di questi video è stata molto grave. Perché? Perché uno dei due video io non c'ero, c'erano due medici e un medico praticava l'ossigeno ozonoterapia su un altro medico. Quindi ecco, questa è la negazione di una terapia efficace, comunque riconosciuta. E nell'altro video gravissimo che mi hanno rimosso invece io leggevo quello che è il report ufficiale dei risultati della sperimentazione dell'ossigeno ozonoterapia sui pazienti covid. Report ufficiale della SIOT, Società Scientifica, ossigeno ozonoterapia. E negli altri due video parlavo sempre di ossigeno ozonoterapia oppure delle proprietà sanificanti dell'ozono, il tutto con ampie basi scientifiche e documentate. Ora, c'è una cosa importante da dire, è che è chiaro che qui siamo oltre la negazione della libertà di parola, oltre alla censura, qui siamo arrivati alla negazione della scienza, siamo arrivati alla negazione dei fatti e anche all'accanimento verso chi, nel suo piccolo come me, si batte per la salute di tutti. Senza considerare che su YouTube ci sono video che incitano esplicitamente all'odio, alla violenza, alle cose più terribili, ci sono i video che insegnano come costruire in casa degli ordigni, delle bombe, delle molte, eccetera eccetera eccetera. Questi video stanno allegramente online, su YouTube, non li rimuove assolutamente. Bene, allora, premesso questo, appunto premesso che YouTube ha comunque cancellato Informa TV, non si accontenta e oggi ha rimosso un altro video. Questo video riguarda, riguardava lo scandalo dell'OMS sull'idrossiclorochina, è uno scandalo ben più grave di quello riferito allo studio fake pubblicato da Lancet e poi ritirato. Come saprete, io ho dedicato un video anche a questo, basandosi su questo studio fake, questa fantomatica Sargis Fair, l'OMS aveva prima interrotto e poi ripreso la sperimentazione con l'idrossiclorochina. Ecco a cosa mi riferisco nel video che YouTube ha rimosso oggi. I test clinici dell'OMS Solidarity e Recovery del Regno Unito sull'idrossiclorochina hanno usato dosi potenzialmente letali. Ovviamente nella descrizione di questo video, come in tutti i miei video, ci sono le fonti attendibilissime da cui io ho tratto questo video e i dati li ho presi anche dai siti ufficiali dell'OMS. Queste sono le motivazioni con cui YouTube mi comunica la rimozione del video. YouTube non tollera contenuti che incitano alla violenza o promuovono attività pericolose che comportano il rischio di gravi infortuni o di morte. Sono inoltre vietati i contenuti pubblicati allo scopo di sconvolgere, impressionare o mancare di rispetto. È inutile dire che nel video prendo i dosaggi comunicati dall'OMS sui siti di Recovery e di Solidarity e li confronto con i dosaggi attualmente utilizzati per l'idrossiclorochina anche utilizzati per altre patologie. L'esattezza di quanto riporto nel video mi è stata confermata da autorevoli fonti medico-scientifiche e non solo. Inoltre quanto denuncio nel video è gravissimo e riguarda tutti noi. È evidente che c'è qualcuno dietro che si diverte a segnalare i miei video, ma questa comunque non è una cosa accettabile. Il comportamento di YouTube non è accettabile perché comunque anche in seguito al ricorso YouTube ha confermato la rimozione di due di questi video. Sugli ultimi due non sono riuscito a fare ricorso, in tempo praticamente. Allora, dicevo, è evidente che si divertono a segnalare i miei video, così come è evidente la volontà di YouTube di nascondere delle terapie che sono efficaci e di coprire anche delle condotte, mi dispiace dirlo, ma di fatto delittuose, compiute da organismi sovranazionali, il cui scopo dovrebbe essere molto, molto diverso. Infine, questo è evidente, non è certo YouTube che si può permettere di sindacare su quanto da me esposto. Direi che non c'è altro da aggiungere, mi sto muovendo per le vie legali, per le vie legali mi sto muovendo contro YouTube e su questo vi aggiornerò a breve perché ci sono delle cose molto importanti e questa che farò è un'azione legale molto, molto importante e soprattutto sarà un'azione legale molto precisa, molto dettagliata e spero anche molto efficace. Questa non è ovviamente la mia battaglia, è anche la mia battaglia per chi ne sono vittima, ma è la battaglia per la difesa della libertà di parola di tutti, di YouTuber e non solo degli YouTuber, insomma di chiunque opera sul web e sui social, ma è anche una battaglia per il diritto alla salute, che è un diritto di tutti. Mi auguro ovviamente che quanto è accaduto ad Informa TV non capiti mai a nessuno e soprattutto non capiti mai più a nessuno perché queste cose non devono più accadere. Bene, io direi che non c'è altro da aggiungere, ho spiegato quello che è successo, direi che insomma è chiaro l'accanimento, l'intento persecutorio di YouTube nei miei confronti e io faccio notare, questa cosa è evidente, mi mette in grave difficoltà perché è anche frustrante, io faccio un lavoro di ricerca alle volte anche di uno o due giorni, porto su documenti, prove dettagliate e adesso pubblico un video e non lo guardo, non viene mostrato a nessuno, insomma è un canale con 42.000 erotti iscritti i cui video non superano le mille. Le 2.000 visualizzazioni, faccio un ultimo esempio, ieri ho pubblicato un video comunque importante che è tra l'altro un'anteprima nazionale, ho pubblicato in anteprima i risultati definitivi dell'ossigeno-zonoterapia sui pazienti Covid-19. Ora, magari non è un argomento interessantissimo, magari non interessa a tutti, ma insomma questo video ha poco più di mille visualizzazioni al momento, il che è insomma è oltre la stranezza, siamo nell'impossibile, basti pensare che normalmente i miei video solo nella prima ora prendono dalle mille alle... prendevano perché ormai sono lontani i ricordi, dalle mille alle 4.000 visualizzazioni soltanto nella prima ora. Bene, direi che veramente non c'è altro da aggiungere, attenderemo gli sviluppi e soprattutto vi terrò aggiornati su questa azione legale che intraprenderò a brevissimo. Un saluto dal vostro Matteo De Micheli e ci vediamo al prossimo servizio!